amici di bella sicilia ci troviamo a palazzolo a creide e siamo in compagnia di maria cristina maria cristina ci condurrà davanti alla chiesa di san sebastiano quindi saliamo andiamo ed è un momento speciale quello che stiamo vivendo noi di bella sicilia oggi le telecamere di bella sicilia a palazzolo a creide e guardate questa meravigliosa chiesa questa è la piazza del popolo maria cristina facciamo vedere questa piazza un luogo che consigliamo a tutti di vivere soprattutto nel periodo estivo chiunque visita questo luogo rimane a bocca aperta si innamora ed è lo stesso sentimento che stiamo vivendo noi adesso nell'almirare tali bellezze è quella che guardate adesso saliamo questi scalini maria cristina e spieghiamo un po quanti scalini sono sembrano tanti ma in realtà sono solo 25 ed ora saliremo lassù e vedremo salire è un'impresa ed è un momento speciale un momento meraviglioso per tutti gli amici di bella sicilia che amano questa isola che amano i patrimoni che contiene questa isola nel sud dell'italia e guardate invitiamo tutti a palazzolo a creide cosa possiamo dire ci affacciamo in questo balcone e puoi dirci cosa si prova in questo momento in questa città dal fascino nobile sicuramente libertà senso di libertà di appartenenza e poi guardate che bello il salotto degli play come si fa a non innamorarsi città patrimonio dell'unesco è uno dei borghi più belli d'italia guardate invitiamo tutti a palazzolo a creide ad ammirare questo e tanto altro perché cosa c'è di altra da visitare qui non posso svelare troppo venite venite e vedrete con i vostri occhi questa bellezza e quindi lasciamo questa curiosità in modo tale che possiate vivere tutti voi in prima persona questa meravigliosa città che sicuramente resterà sempre impressa nei vostri cuori vi aspetto prossimamente su onda tv canale 85 sulla pagina facebook di bella sicilia un documentario completo che vi immergerà in questa fantastica città questo solo l'uno per cento di quello che vedrete di quello che potrete apprezzare qui in questa città patrimonio dell'unesco